Il device in questione è un nebulizzatore a pressurizzazione di liquido e deve concorrere con i nebulizzatori per aerosol che normalmente sono considerati l'ottimum per questo tipo di impiego. Le analisi sono sostanzialmente consistite nel misurare la dimensione delle gocce all'interno dello spray mediante una tecnica laser che si chiama face doppler anemometri. Da queste misure abbiamo ottenuto alcuni risultati particolari che hanno dimostrato che questo tipo di device si avvicina molto al device a nebulizzazione per aerosol. Infatti i diametri medi sono molto prossimi, rientrano i diametri nel range specifico per la deposizione all'interno delle cavità nasali. In particolare si tratta di andare dai 10 ai 20 micron, cioè ai 20 millesimi di millimetro. Queste analisi hanno permesso, confrontando i vari device, di stabilire che pur essendo un nebulizzatore a pressurizzazione, i dati dei diametri delle goccioline si avvicinano moltissimo a quelli dei nebulizzatori a spray aerosistiti.